ciao a tutti sono ravello e oggi ho deciso di preparare una bevanda fresca di 70 per l'estate si chiama ice latte al matcha e banana andiamo a vedere tutti i passaggi per poterlo realizzare anche voi nel vostro bar o a casa vostra prima cosa andiamo a raffreddare il nostro bicchiere mettendo il ghiaccio all'interno eliminiamo l'acqua in eccesso e andiamo a costruire il drink primo ingrediente latte intero fresco 120 ml 20 ml di mixi bar banana fabbri misceliamo molto bene ho preparato il tè matcha concentrando in 50 ml di acqua calda intorno agli 80 gradi 3 grammi di matcha in polvere così ho il mio ingrediente che mi serve per completare la bevanda andiamo a guarnire con una fogliolina di menta il nostro drink analcolico e una cannuccia da servire l'estate al mare in montagna in casa dove volete un drink analcolico fresco dissettante per tutti voi ciao da gianni cocco